Prendi gusto all'aria e vado, io non ciò che ho visto Allora, in questo momento iniziale ci mettiamo un clima di ascolto e ci dirà in questo momento conclusivo Allora, in questo momento iniziale ci mettiamo un clima di ascolto e ci dirà in questo momento iniziale ci mettiamo un clima di ascolto in questo momento iniziale ci mettiamo un clima di ascolto e ci dirà in questo momento iniziale ci mettiamo un clima di ascolto e ci mettiamo un clima di ascolto e ci dirà in questo momento iniziale ci mettiamo un clima di ascolto